E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Il destino tra le proprie mani. Con tre punti la Spal si salva e l'approccio al match contro la Sampdoria è promettente. La fitta, la palla sul sinistro, poi c'è Felipe in posizione di offside. Anzi no, è calcio di rigore per la Spal, calcio di rigore per la Spal. E' tutto pronto, va Altenucci con il testro, arriva il gol della Spal, firmato dal capitano Altenucci dopo quattro minuti. Per ancora Linetti, Slano, Mombriacante, la palla arriva a Caprari, Gomis, ci mette la manona, poi arriva Praet, che manda cavolosamente a lato questa occasione. Un gol in più, un uomo in più e le buone notizie che giungono da Napoli. Per gli uomini di Leonardo Semplici si tratta solo di chiudere la partita. I piani, cross dentro per Paloschi, poi arriva Grassi, arriva il gol del 2 a 0, secondo gol consecutivo. Altenucci detto l'aria, Altenucci! Arriva la doppietta di Altenucci, Spal 3, Sampdoria a 0. Record di marcature in Serie A per il capitano Mirko Antenucci, che chiude con 11 centri. Per la Sampdoria conferma di avere in casa un potenziale gioiello come David Kovnavski, che non rovina la festa alla Spal, unica delle tre neopromosse a salvarsi. Ma in questo momento credo sia giusto pensare alla festa, al coronamento di un cammino veramente eccezionale, impensabile. Però tutti insieme abbiamo raggiunto un traguardo che veramente tre anni fa ci avessero detto ci avrebbero presi fermati, sarebbe stato del poco. Grazie a tutti!